Ciao ragazzi, oggi siamo al Parco Lascione a Guaduatino, Perugia, lago Noquil. Abbiamo appena finito una gara, mi cazzando Dio che ho vinto, e oggi la pesca è un pesce molto apatico. C'è stato uno sbasto di temperatura importante, quindi si è passati da un freddo, oggi è abbastanza mite e piove fondamentalmente. C'è molta attività in superficie, come potete vedere dalle bollate, ma il pesce più deciso a mangiare è quello che stava sul fondo. Quindi come spesso accade, io per tutta la gara ho cercato il pesce in superficie, ho fatto anche dei pesci, però mi sono qualificato in finale come primo. Però il pesce più deciso ad attaccare era sul fondo. In questo caso io ho innescato il Circle 2 grammi, in questa colorazione, questa è un'acqua verata, quindi ho puntato una colorazione comunque abbastanza evidente. Perché il circolo? Perché il fondo è abbastanza pulito, il pesce è stratificato sotto, quello più aggressivo, e quindi io lo faccio saltellare sul fondo, alternando dei recuperi molto veloci a dei recuperi lenti, a quasi delle pause, andando a sbacchettare la canna. A proposito di canna, ho scelto la Vaisley fra 62 ISML Impact Solid, perché? Perché il pesce io sono andato a cercare lungo in finale, quindi nel lato opposto a dove pescavo io, dove era meno disturbato. Quindi ho scelto un'azione comunque di controllo, ma appena più dolce rispetto all'altra canna che avrei usato, che è la 61 ISSL. Filo di controllo con Torai Poliester 04, 1,6 litri. Vi faccio vedere proprio l'azione che ho fatto, che mi ha portato a 17 pesci in finale, da 30 minuti. Ovviamente appena lanciato, controllo lo spoon a canna alta, proprio per cercare di capire il filo quando arriva sul fondo, in modo, questo è l'acqua a profondo, circa 2 metri e mezzo. Una volta che ho cercato il contatto, vado proprio a fare questa azione con la punta della canna, a rendere visibile lo spoon e anche attivire il pesce, che è sul fondo. E vengo via con un recupero abbastanza dentro. Alterno questo tipo di azione, vedete che roba. Come ho alzato la canna per spacchettare, il pesce ha attaccato. Circo il 2 grammi. Quindi proprio al momento che sono andato a fare, mi sono fermato e sono andato a ricamare lo spoon, facendolo alzare in verticale e sbacchettandolo, è arrivato l'attacco. Questo è un movimento che il pesce sul fondo lo fa impazzire. Ciao a tutti e buon divertimento!